I missioni di avatar per sbloccare il deltaplano ci dicono di distruggere un carretto di cavoli Praticamente si trovano quasi sempre fuori dai benzinai Sono questi cosi qua, basta romperlo, io la missione l'ho già fatta Si può fare squad tra l'altro, quindi la può fare qualsiasi compagno E ve la conta, era semplicissima Quindi insomma se non sapete dove sono i benzinai sono questi qua Tipo uno qua, ma probabilmente c'è un coso, un robo di cavoli anche qua Vicino a rotaie, poi probabilmente ci sono anche fuori dalle stazioni ferroviarie Insomma da tutti i punti di interesse o magari anche fuori dalle città Questo non lo so, comunque è semplicissimo, basta rompere il carretto di cavolame Like ozzo al video, mi raccomando per supportare il canale Codice creatore sempre attivo e se lo usate taggatemi social